Buongiorno appartamento, buongiorno porta, buongiorno muro, buongiorno soffitto, buongiorno pavimento, cominciamo la giornata. Di 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 di, ah, ecco qua, istruzioni per integrarsi, piacere a tutti ed essere sempre felice. Punto 1, respira. Ok, questo è fatto. Punto 2, saluta il giorno, sorridi e di buongiorno città. Punto 3, fa ginnastica, salti energizzanti. 1, 2, 3, sono troppo pompato! Oh, punto 4, doccia e ricordati di non far andare il sapone negli... Ah, chi? Fatti la barba, spazzo le capelli. Mmm, ah, ah, vestiti. Ups, ah, 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 quasi dimenticavo. No, no, ah, 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 no, questo no, ho sbagliato, questo sì, fatto! Punto 9, fa una buona colazione con tutte le persone speciali della tua vita. Ehi, piantina, che vuoi fare stamattina? Guardare la tv? Anch'io! Punto 11, saluta i vicini. Ciao Joe, ehi, surfista, buongiorno Sherry. Uh, ciao Jasmine, Dexter, Angie, Loki, Puffy Roy, Fluffy, Fluffy Junior, Fluffy Senior, Jeff. Punto 12, rispetta i segnali e il codice della strada. Punto 13, goditi la musica pop! Metti sempre la freccia, parcheggia nelle strisce, passa in lavanderia prima delle 12, notizie principali, ricordati di sorridere, tifa sempre per la squadra locale, restituisci i complimenti, bevi caffè super costoso! Amici di The Man Under The Wood, benvenuti! Siamo arrivati all'episodio numero 4 di Ci sono cascate di nuovo, quel bellissimo format che avete imparato tutti a conoscere, che non ripetiamo ulteriormente, perché se non lo conoscete recuperatelo, e devo dire le solite cose, cioè, stiamo andando una bomba, quindi continuiamo così, condivisioni, like, commenti, attivate la campanella su YouTube, su Spotify, seguiteci ovunque mentre fate jogging, mentre siete sulla tazza del water, cioè, ovunque, qualsiasi occasione buona per guardarsi la qualità, e la qualità è The Man Under The Wood. Questa sera ho con me, per la prima volta in studio, quindi c'è anche un po' di emozione, il buon Andrea, Andrea! Sono emozionato, sono emozionato, devo dire, però anche questo è segno di qualità, no? Sì, abbiamo fatto un salto in avanti, siamo passati da Willow, poi Spank e poi Level Up. Il meglio alla fine, insomma. Il piacere arriva sempre sul fondo, no? Quando si conclude. Mi piace, mi piace. E l'ospite di questa sera è veramente un attore, doppiatore straordinario, che abbiamo avuto modo di conoscere anche in varie occasioni, ma questa sera lo conosceremo sotto altri punti di vista, sicuramente, ed è Massimo Trigiani. Massimo! Ma ciao! Benvenuto! Comunque, ci tenevo a dirlo davanti a tutti, questo posto è bellissimo, è una cosa meravigliosa. Tu l'hai fatto vedere al pubblico? L'ho fatto vedere e non l'ho fatto vedere, no? Ho lasciato un po' l'alone di mistero. Allora, voi non avete idea di che cos'è? Pieno di action figure, fumetti, disegni, Funko Pop, videogiochi, c'è tutto qui, c'è tutto quello, anche quello che pensavi che non esistesse, lui c'è là. Bene, bene, bene. Allora, calcolate che c'è l'allarme antifurto, quindi insomma, in base a quello che ho detto, desistete dal venire a rubare qualsiasi cosa, perché c'è veramente, vi arriva l'esercito. C'è l'ED209 come cane da guardia, e quindi salgate là e disbutterla. Esattamente, esattamente. Bene, perché le cose vanno anche protette, come soprattutto, diciamolo, quello che hanno dato Massimo appena entrato, ovvero le luci da set soft porno. Sì, io ho pensato non si potesse dire, possiamo dirlo. Allora, io appena sono entrato, ho visto queste luci qua, ho detto, che è un soft porno anni 70? E poi ha visto Spanky, ha visto insomma questa... Io ho detto, no, non è un soft porno. No, non può essere. Era un semaforo, diciamolo, se no, pensano male, pensavo che poi... Esatto, Massimo, abbiamo iniziato una bellissima lettura di Lego Movie, un pezzo stratosferico. Vogliamo subito parlare di questo prodotto straordinario, cioè Emmett Mattonowski. È meraviglioso. Che personaggio è? È stato bellissimo. Devo dire che quando ho fatto il provino e poi ho saputo di averlo vinto, ero la persona più felice del mondo. E poi la lavorazione è stata tosta, perché era il primo ruolo importante che facevo, quindi il povero Marco Mete lo sa quanto mi ha fatto il culo, però il risultato è veramente, veramente... Veramente tosta poi, perché ti abbiamo visto anche nelle resti di insegnante, no? Spiegare tutto quello che c'è dietro, come si costruisce. Sì, beh, quello... Innanzitutto devo dire che quando Alessandro e Perla hanno pensato a me per affiancarli nel loro progetto di AF Dubbing, mi sono sentito... È stata una sensazione mista, perché ho detto ma sono in grado di farlo. Ma perché mi hanno contattato a me? Hai pensato... Ho pensato... Che cacchio c'entro io? Non so... E invece... E invece devo dire che mi sono trovato bene e tra l'altro poi ci sono soprattutto bambini e quando lavori con i bambini è tutto un altro mondo. Cioè devi trovare il modo di entrare in empatia con loro, trovare la chiave... Ah, devi sempre... La cosa bella, la cosa emozionante è di stare dall'altra parte che io non l'avevo mai fatto e che devi essere una sorta di psicologo, capire chi c'hai di fronte, capire come arrivare al risultato che vuoi ottenere. E non è facile per niente. No, non è per niente facile. E con i bambini è ancora meno facile perché devi usare dei termini e dei concetti che non usi con le persone adulte. Devi fare delle cose diverse. E infatti per rompere il ghiaccio io gli ho fatto fare Lego Movie perché abbiamo giocato sulla felicità perché Emmett è la persona più felice del mondo è l'unico essere vivente che si alza la mattina ed è felice di alzarsi la mattina e non vede l'ora di fare la routine quotidiana che stressa un sacco di persone perché non è che è libero professionista Emmett è impiegato fisso. Eh sì, è al posto fisso. È al posto fisso quindi c'ha la routine tutti i giorni fa sempre la stessa identica cosa ed è felice di farla. È meraviglioso. È l'uomo medio. È stupendo. Ma quando tu ti alzi la mattina lo fai cioè inizi a fare ah buongiorno. No, manco per sogno io mi alzo la mattina però sta cosa me l'hai rovinata perché io mi immaginavo che ti alzavi e fai no, col cavo io mi alzo la mattina e faccio cerco di attentori di spegnere la sveglia che è quella dell'iPhone che è la cosa più fastidiosa che esista sulla faccia della terra. Quindi sei l'anti Emmett fastidiosissimo. Nella vita sono l'anti Emmett. Ma è stato difficile trovare sta caratterizzazione perché insomma non è proprio facile parlare con quell'intonazione che ti è venuto naturale. sì, no quello non è stato un problema il problema è andare dietro a ritmi mostruosi che ha Emmett cioè che ha tutto che ha tutto Lego Movie perché tutto quanto pum 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 velocissimo con dei cambi di intenzione di una repentinità incredibile quindi insomma stargli appresso e fare tutti quei cambi è tosta. Cioè esci da lì che sei non so sei un uomo distrutto ma massacrato tra l'altro c'è un aneddoto carino di Lego Movie 2 io mi ero spaccato le costole mi avevano fatto volare col motorino e infatti mai più il motorino a Roma e avevo due costole rotte quindi non potevo fare praticamente niente e a un certo punto il Lego Movie 2 lui fa io l'ho terrorizzato come hai fatto sono morto ho detto buona la prima ti prego ho sofferto anche perché diciamolo che con la rottura delle costole quando fa un respiro così c'è anche il rischio della perforazione del polmone cioè io ero caccato infatti ho detto vabbè buona la prima perché io probabilmente morirò però ci abbiamo fatto guarda che lui è un esperto comunque a queste cose perché lui tutti i medical se li hai seguiti poi è una persona molto informata quindi se hai un dubbio chiedi a lui hai rischiato tantissimo io non l'avrei mai fatta avrei detto col cavolo fate fare il rischio a qualcun altro vedete ignoranza perché costo la rotta vicino al polmone in base a come sono rotte cioè anche non era scomposta eh lo so lo so però insomma perché rischiare una perforazione perché non lo sapevo era figo se dicevi per la gloria no non so non rischio il polmone per la gloria con tutto il bene per la gloria ma no il polmone deve essere intatto va bene comunque super prodotto legomovie o super fan bellissimo quindi super M intanto ho anche i pupazzetto di M un collezionista seriale non quello enorme no quello enorme no ho quello grosso e il portachiavi piccolino con la lucetta anche quello grosso c'hai così beh bello ma è tipo sveglia no il pupazzetto proprio così basta lo voglio è bellissimo l'unica cosa che manca qui dentro cioè c'hai di tutto e non c'hai quello ma io c'ho anche il fanco di overall vabbè quello che se ne frega però insomma c'ho anche il due fanco di Klaus prima stagione figo dai c'ho anche John Walker quello anch'io quello ok ce l'hai come bombo John F. Walker John F. Walker bravo vestito da Captain America vestito da Captain America esatto ma chi crede sta a parlare massimo rispetto ecco solo che ne hai talmente tanti di fanco che non ce l'ho fatta dai dopo te lo faccio autografare però me li fa una dedica figa tipo al mio mito assoluto non c'è una cosa loopman qualcosa che io me la posso spacciare ma certo alla divinità grandiosa bella o ricordatelo dopo me la fa non lo so c'ho un sommemento con la memoria mi ricordo un cacchio eppure se tu gli avessi detto dopo te lo faccio vedere avresti creato una cosa eh che cosa una cosa molto epica tenendo conto delle luci che ci stanno all'ingresso sarebbe stato bellissimo bello mai dire mai magari dopo mi offri da bere c'è anche l'alcol c'è l'alcol allora perfetto va bene andata andata dopo facciamo zozzerie con Massimo Trigiani a vostra insaputa senti prima di passare con il primo quizettone che Andrea ti metterà alla prova ti testerà e vedremo quanto te la puoi tirare io so tutto vedi che sta costruendo un po' di paura esatto ma tanto io non so niente e comunque avendo la memoria di me mento non mi ricordo nulla quindi poi io sbaglierò tutto prima che te la tiri io sono molto in curiosità da una lavorazione perché tu stai super nerd sei a passare i videogiochi sei Liu Kang in Mortal Kombat quindi dimmi un po' cioè sei impazzito hai fatto carte fatte no no io ero la persona più felice del mondo io ho cercato di scoprire chi facesse Mortal Kombat chi dirigesse Mortal Kombat l'ho scoperto sono andato a supplicarlo in giochi di fare anche Uomo 3 sai perché ero sicuro di questa cosa lo conosciamo abbastanza da dire sì è possibile ero quasi sicuro no perché c'è c'è anche da dire una cosa il trailer era già uscito Liu Kang non parlava ma io ho dato per scontato che la distribuzione fosse stata tutta quanta fatta infatti io ho chiesto mi fa qualunque cosa anche vecchia zero va bene mi appesantisco un po' e quindi quando mi è stato detto vabbè vediamo e quando mi è stato detto sei stato molto fortunato ho detto ah sì però non sapevo niente ancora quindi quando sono arrivato al turno devi fare questo che si chiama Liu Kang perché c'è un'altra cosa da dire Liu Kang è il mio personaggio preferito in Mortal Kombat quindi è stata una cosa ancora più bella e sono l'unico che dice fatality cavolo ma vero è l'unico cioè vanno e fiero perché in quel film è l'unico che dice fatality è Liu Kang quindi è stata una cosa meravigliosa quante volte l'hai detto fatality? una volta sola cavolo potevi sbagliare apposta così lo dice un sacco di volte no perché l'ho detto veramente pregno ci credevi ci credevo veramente all'inizio ci credevo anche troppo perché avevo la mia perché la cosa l'arma a doppio taglio di quando fai una cosa che ami io essendo nerda amo molto queste cose e o che ti carichi a bestia in positivo oppure che ti carichi a bestia e sei eccessivo e quindi io ero arrivato là che lo facevo tutto a testosterone quando il Liu Kang del film invece non c'entra nulla perché è estremamente serafico infatti Roberto Cammino che ancora ringrazio mi ha detto Max no cioè non è così anche meno anche meno anche meno è arrivata bomba è arrivata bomba come non si sa se c'hai qualcuno all'interno della sala ti la facevi davvero la fatale poi voglia ci facevo la bicicletta ma visto che questa diciamo questa energia questo entusiasmo è proprio palpabile anche adesso a distanza poi di anni da quando ci sono a me mi dicono sempre ma Pippi no penso a Pippi morirei che lo schiopperei immediatamente secondo me te scoppierebbe il cuore immediatamente visto dicevo che questo entusiasmo è così elevato anche a tanta distanza dal film ci fai risentire questo fatality in maniera chi se lo ricorda io ho giocato Mortal Kombat fino a ieri quindi per me fatality che è il narratore poi non so come l'ho fatto non me lo ricordo ma lo vado a rivedere poi ve lo rifaccio bene va bene ti rinviteremo solo per farti fare io arrivo faccio fatality e poi me ne vado esatto anche un audio così fuori senza contesto fatale la metti così fatality aspettate un attimo fai anche con l'ospite che ci sarà e sentiranno fatality basta va bene vediamo vediamo cerchiamo di organizzare beh ma mi ho nerdume ma sono stato fortunato perché ho fatto un botto di roba nerd quindi sono felice ci credo soprattutto quando è inaspettato come Charles Xavier in Legion ti ho raccontato di Charles Xavier no però se vuoi racconta allora vengo chiamato per fare Legion non so se il pubblico la conosce comunque è una serie figherrima della Marvel però quella era Fox se non mi sbaglio Legion vengo chiamato per fare Legion non so assolutamente nulla perché di solito a meno che non hai vinto un provino non sai assolutamente niente del personaggio che farai quindi vengo chiamato e arriva il direttore Massimo Corvo e mi spiega là dice tu sei questo personaggio tu sei il padre del protagonista però giovane perché il protagonista torna indietro nel tempo ti chiami Charles e fin là vabbè vedo lui che sta in piedi figo con i capelli e tutto quanto e dico vabbè vediamo un posto Charles però a un certo punto Charles fa questo e controlla mentalmente una persona quindi io ho capito perché poi mi sono ricordato che Legion è il figlio di Charles Xavier che stavo facendo Charles Xavier e lì il professor X e lì dopo ma questo è Charles Xavier credo che Massimo abbia pensato questo è un deficiente però è probabile è probabile dai l'avrebbe pensato chiunque però la felicità l'hanno pensato spesso credo che l'abbia pensato anche Roberto Cammino quando ha visto la felicità del fatto che quindi la prima associazione a te è questo è un deficiente questo è un esaltato è un esaltato no è un appassionato allora se mi vogliono bene dicono che è un appassionato che è un appassionato se ti vogliono male dicono un deficiente un deficiente una via di mezzo un esaltato simpatico simpatico ok vabbè dolce dolce quando uno non è niente adesso vediamo quanto sei bravo però perché te ti vanti di essere nerd adesso vediamo se tu riconoscerai le parole e le frasi che hanno detto i tuoi personaggi io sono memento non mi ricordo niente no è che fai finto nerd fa il film e poi dopo vabbè vabbè vediamo speriamo dai su quindi Andrea poniamolo in difficoltà lo metteremo in difficoltà io prendo la lista di queste domande che ti dovranno sciogliere l'animo perché dovrai cervellarti per trovare le risposte giuste esatto esatto sei pronto sei pronto sei pronto sei pronto prontissimo vediamo allora ti dico subito che Max e Davide hanno fatto 10 su 10 mentre Emanuela d'amico ha fatto 2 e mezzo su 10 quindi ne ha indovinata 1 su 4 vediamo te come andrai se riesco a fare di peggio ho vinto vinco qualcosa se riesco a fare peggio se riesci a fare peggio non lo so il cucchiaio di legno il cucchiaio di legno c'ho scritto man under the hood ti faccio un autografo sopra io poi ti faccio quello su John Mul va bene scambio di autografo ci siamo allora proprio perché non vogliamo brandizzare le cose io lascerò campo largo con il logo giusto facciamolo vedere ci sta ebbè questo eccolo se non si vede è un problema dimmelo domani vado allo psicologo se non si vede si vede ok io ovviamente gli do anche le opzioni certo beh che cavolo ho capito io ho già tu detto che sono memento allora allora io ti dico delle frasi che uno dei tuoi personaggi o tu hai detto e tu dovrai poi indovinare l'opzione corretta vai perfetto e ora rotta verso l'isola dei paguri beh quello sono io il paguro si chiama così paguro se tu andavi sul copione c'è scritto paguro paguro 1 e paguro 2 io ho paguro 1 però sai che il paguro è un marchio registrato da un'entità del web quindi vabbè pagherà poste pagherai i diritti io non c'entro niente io sono un impiegato dei poste hai indovinato hai indovinato nemmeno le opzioni un applauso un applauso ma quello è facile l'ho recitata proprio in presa diretta io che recitavo però in realtà l'hai detta male perché e ora rotta verso l'isola dei paguri lei fa un po' il paguro guarda che roba ti faccio pure un applauso pubblicità e le poste pubblicità e le poste che poi c'era un giorno vado alle poste perché dovevo fare non so che cosa c'era il nostro cartellone grosso quanto una casa e un vecchietto che stava là basta quindi ho fatto io te lo io me ne vado perché magari mi vede meno a me ma c'era proprio la tua foto la tua immagine perché noi abbiamo fatto una campagna tra l'altro è andato anche al cinema questa è stata una cosa molto bella perché ero con una fanciulla a vedere Harry Potter e prima di Harry Potter è partito il mio spot quindi ho guadagnato 600 milioni di punti praticamente l'hai conquistata con lo spot delle poste l'ho conquistata con lo spot delle poste esatto è bella lo sono io io ho fatto guarda sto spot e lei perché guarda guarda è finito lo spot va bene allora 2.5 li hai presi ha eguagliato Emanuela vediamo se riesce a eguagliare i top sì ciao bene sicuramente sbaglierò anche questa ma è il gioco delle cose l'abbiamo chiamata Bethany come la ragazza che mi ha salvato la vita alternativa numero 1 spin me round fammi girare Nick Martucci alternativa numero 2 il segreto di una famiglia Esteban o Esteban alternativa numero 3 Jumanji benvenuti alla giungla Alex adulto Jumanji ma è bravissimo ma è bravissimo più che altro sono andato per esclusione perché gli altri non avevo idea di chi fossero quindi va bene siamo a metà percorso è una tattica comunque escludere quelli che non hai per esclusione come i giochi da tavolo questo questo forse questo è barzotto questa buttiamo dai ce l'abbiamo è detenato fuori dei film ma le ho fatti io le ho fatti davvero bene 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 terza domanda occhio perché siamo poco più di metà percorso eh ho capito non credo esistano tanti modi per combattere contro questi mostri anzi forse ce n'è solo uno alternativa numero 1 Castle Rock il ragazzo alternativa numero 2 Devilman alternativa numero 3 il trono di spade 2 il verme greco mamma mia mamma mia non ti faccio l'applauso nemmeno non ti faccio l'applauso perché te lo lascio per l'ultima che sarà e ti dico e ti dico anche che ero tentato di venire con la maglietta di Devilman vedi però poi ho detto no sono auto autoreferenziale in maniera eccessiva e quindi non lo faccio posso dire anche questa cosa conoscendoti uno potrebbe dire beh si è molto molto possibile sono estremamente ma scusa ma se tu devi andare ad esempio a una cosa sui videogiochi perché non mi devo mettere la maglietta con scritto Assassin's Creed Odyssey o perché con scritto sono Massimo Trigiani la voce dei tuoi sogni no in realtà non sono così tanto autoreferenziale però al panel che abbiamo fatto la voce dei tuoi sogni è bello però è molto bella come cosa ma non credo che possa essere io la voce dei sogni di qualcuno vabbè comunque sicuramente di qualcuno lo sarei lo spero mi fa piacere sono contento comunque si ti dicevo al panel che abbiamo fatto al comicon di Napoli sull'animazione giapponese non possono andare con la maglietta di Devilman ma ha fatto bene non c'è scritto solo Massimo Trigiani doppiatore di Devilman c'è solo Devilman chi lo sa è bene chi non lo sa sono cose nerd fighe come un'altra cosa estremamente nerd che non beccherebbe mai nessuno io ho trovato la maglietta che ho scritto Queen Zenobia Crew piccola macchietta di sangue ora la Queen Zenobia è la nave di Resident Evil Revelation non c'è nessun riferimento nella maglietta Resident Evil per cui se non hai giocato Resident Evil Revelation e non l'hai giocato più volte o recentemente non la sgambi mai mamma mia che pozzo di scienza che pozzo di scienza adesso però non tergiversiamo lo so stavo facendo apposta esatto andiamo a vedere se qua la differenza come disse Peter Griffin tra gli uomini e i ragazzini orcomondo bene quindi arriviamo all'ultima l'ultima domanda hai una personalità vincente dopo aver preso il tuo il tuo per sbaglio eh alternativa numero uno fatela andare bene ti dico che l'ho letta malissimo la difficoltà anche questa no 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 te la becchi letta malissimo d'Andrea dai rileggiamola hai una personalità vincente dopo aver preso il tuo per sbaglio il tuo per sbaglio ma tu cacchio vabbè cavo semplice l'ultima qua ti giochi c'è scritto questo io ti farei vedere ma poi vedresti l'alternativa giusta e non si può fare c'è scritto così vabbè poi mi dirai eh ma si c'è scritto così numero uno madame web ben parker numero due l'apparenza delle cose george numero tre The Umbrella Academy Klaus qua vedo il buio totale nella mente di Massi sparala sparala a sentimento il tuo per sbaglio che cosa di chi si starà a parlare no c'è un dubbio amletico su sta cosa il tuo per sbaglio vediamo beh più che altro chi potrebbe aver detto hai una personalità vincente eh tra i personaggi potrebbero averlo detto in due esatto potrebbero averlo detto in due questo è il problema porca miseria eh ben parker sì 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 dieci su dieci anche per Max David ciao ci sono anch'io c'è anche lui nell'olivo è tipo è tipo Alessandro Borghese no quello che prende tutte le stelle da tutti che rientra nella storia del bravo bravo massimo bravo massimo adesso però vediamo la bozzi a canni perché insomma la bozzi a canni cioè a bozzi vuol dire che ci sto safa manda bene a canni no cavolo e adesso ti do quattro situazioni ok quattro situazioni che hanno un qualcosa di bello contrapposto per un'altra cosa brutta tu mi devi dire se il gioco vale la candela va bene ci sto ci stai vediamo la numero uno è viene invitato ovviamente senza percepire alcun compenso a un'anteprima di un film dove sarà presente tutto il cast internazionale incluso regista e attore protagonista da te doppiato quindi a bozzo immediatamente tuttavia ti informano in anticipo che a differenza di tutti creator influencer e tiktoker presenti all'evento non ti sarà possibile incontrare nessuno e li vedrai solamente da lontano a bozzi a canne mi vedo il film gratis in anteprima a bozzo a bozzi si dice mi vedo il film mi vedo il film e chi se ne frega mi vedo il film mi risparmia sti centavoli poi tanto voglio dire tanto loro non mi conoscono cioè tu stai parlando con uno che all'anteprima stampa di Rocky Balboa è schizzato in avanti quando avevamo detto che non dovevamo rompere le scatole a stallone è schizzato in avanti col cofanetto di Rocky e me lo so fatto fare io ho la dedica tu Massimo si veste stallone quindi non mi sfaventa l'idea di trovare il modo per intrufolarmi fare io tu sei un grande sono felice poi mi picchiano fattelo dire dignità sotto zero Massimo che me frega scusa che me frega perché tu parli con una persona che ti dice che me frega io al massimo scavalco innanzitutto io mi vedo il film in anteprima risparmiamo 7 euro e 50 ma mettici pure le biblie 12-13 euro poi comunque essendo l'anteprima da influencer comunque mi daranno i gadget cretini faccio il contenuto da mettere su Instagram tutte queste vogliate in più se sono abbastanza intraprendente riesco anche a rompere le scatole abbiamo capito va bene dignità sotto zero per abbozzare sopravvalutato la dignità è sopravvalutata allora 2 un guru del marketing decide di svolgere i suoi servizi da social media manager gratuitamente a patto di avere pieno controllo sui tuoi contenuti i tuoi profili cresceranno moltissimo con video e foto molto trash che potrebbero tuttavia avere ripercussioni sulla tua carriera professionale qua a canni sicuramente tu vuoi il controllo dei tuoi social ma più che altro non voglio che le cose che faccio possano ledere alla tua professione la mia professione vai una bomba sui social ma chi se ne frega nel senso il mio lavoro è un altro siamo d'accordo su questo siamo d'accordo bravo la dignità è ritornata ho avuto no dai abbiamo buttato la dignità da una parte e l'abbiamo ripresa dall'altra ho avuto i miei punti le mie statistiche e dignità sono aumentate sei ritornato a zero perché compensazione va bene tre vinci il provino su un attore molto famoso che è sempre stato doppiato da un tuo carissimo amico collega il direttore di quel film non considera la sua voce adatta per quello specifico ruolo e ti offre il lavoro per la stessa cifra che fai a bozzi o a canni per rispetto al tuo collega abbozzo e chiamo il mio collega per dirgli questa cosa qua però lo chiami e dopo abbozzi o prima abbozzi e dopo lo chiami se mi chiamano dipende io so che farò il provino per quell'attore oppure no eh sì lo sai lo so prima che è quell'attore e non è detto perché uno può andare a fare il provino no no in questo caso lo sai prima no lo chiamo prima lo chiami prima e gli dico guarda mi hanno chiesto di fare il provino per il personaggio tu quanto pigli io piglio questo ok eccetera eccetera perché se lui mi dice che ha chiesto di più magari a me io non lo so e quindi vado a meno non è corretto non è assolutamente corretto però magari alla stessa cifra ve la giocate se faccio il provino cioè voglio dire se il direttore ritiene che tu non sia adatto ci sta avete visto il film su Truman Capote eh sì quello con Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman normalmente lo doppia Pannofino in quel caso lui andava tutto quanto di vocalità alte quasi di testa Pannofino non c'entrava niente era Chevalier era affatto Roberto Chevalier quindi sarebbe stato folle mettere la voce va bene quindi chiamiamo e poi a bozzi sì esatto perfetto ultima ti offrono diverse lavorazioni importanti che ti lanciano verso una carriera brillante nella direzione di doppiaggio a discapito però dei ruoli d'attore e doppiatore che diminuiranno esponenzialmente fino ad azzerarsi a canno a canno ma non ti frega proprio niente a direttore a me piace recitare è bello poi mi roderebbe perché sto là e voglio recitare e non lo posso fare ma poi magari la fa male io orco due io mi immagino Massimo che su tutti i film che dirige si piazza sul protagonista non so perché c'ha avuto questa immagine proprio nitida nitida non si può fare hai ascita anche la risata la risata beh dipende se ci sta Robert Sheehan gli dico al cliente ti scoggio fammi falla fa un'altra la direzione però se può fare ci sono stati casi ci sono tantissimi casi tantissimi casi però io se dovesse accadere mi farei dirigere da qualcuno cioè chiederei di essere diretto però ti piazzeresti beh se no si se è un attore a cui tengo che ho doppiato tante volte sì ma poi un nerd come Massimo magari arriva un prodotto nerd devi fare il Jordan lanterna verde chiedo al cliente scusa ma posso fare il provino il cliente mi dice di sì e vinco poi bisogna vedere perché magari mi dice no non lo puoi fare perché più che altro dipende perché se ha un ruolo se il protagonista parla veramente tanto ovviamente tutto il film lo dirige un'altra persona perché io non me posso dirigere da solo chiaro chiaro andrei secondo me non mi ha convinto se piazzerebbe ovunque lui si piazzerebbe ovunque ma mi farei dirigere da qualcun altro ho capito però te piazzeresti prima ti piazzi poi fai no io non mi piazzo prima io chiedo al cliente se lo posso fare no perché se io chiedo scusa se è un attore che ho doppiato tante volte protagonista Massimo Trigiani diretto da Massimo Trigiani uomo 3 Massimo Trigiani tipo il film quello meme di Jack Black che gli fa tutti lui sì oppure un qualsiasi film con Eddie Murphy cioè il periodo che li faccia tutti la nonna è il signore tipo il dottor Dorito esatto quindi io praticamente farei questo chiedere se c'è un attore però soltanto se è un attore che ho doppiato tante volte altrimenti no ovviamente se è un attore che ho doppiato tante volte chiedere al cliente anche se posso fare il provino non è che mi deve piazzare il cliente mi dice non c'è problema del provino buono dai andiamo però mi farei dirigere da qualcuno va bene ci credi? no ci credi ho detto pure mi faccio dirigere da qualcuno sei magnanimo come umano va bene ma non puoi non puoi non farti dirigere da qualcuno stiamo scherzando siamo sicuri non è vero siete due pezzi di pezzi di no vi frego materia anfibbia perché se vi ricordate full metal jacket voi non siete altro che pezzi di materia anfibbia comunemente detta quest'uomo è una citazione un pozzo ecco perché ha fatto il massimo nel quizzatore anche se l'ho letto io malissimo ma in realtà non hai letto l'ultima come andava letta? non so se non ciancicare era una cosa del tipo il biscotto della fortuna lui stava mangiando e quando c'è la scena del biscotto della fortuna ho pensato che stessi mangiando perché io non ho idea del momento adesso l'ho scoperto però mi ricordavo che poteva essere Ben Parker cioè tra Klaus e Ben Parker era più Ben Parker senti ci emozioniamo un po' con John Walker ci leggi questa bellissima scena di Walker che vi ho detto che l'ho capito ci siamo emozionati anche quando l'abbiamo selezionata quella è una scena meravigliosa tra l'altro è stato parte del provino che ho fatto per John Walker quindi hai iniziato proprio in discesa no era alla fine perché il provino era enorme nel senso che c'era la scena quando lui si presenta al pubblico intervistato una scena all'interno dello spogliatoio con sua moglie prima di presentarsi che quindi è emozionato che ci sta anche l'amico Lamar un'altra scena con Bucky e coso come Falcon e poi c'era la scena del processo hai capito e infatti da ovviamente 40 minuti è stato bello lungo è stato bello tosto e bello lungo e infatti ringrazio Metello Mori e tra l'altro mi sono fatto anche un'idea di come avesse trattato il personaggio ed era un'ottima idea ho detto mazza questi hanno fatto un bel lavoro poi ho avuto la conferma facendo la serie facevamo un episodio da settimana quindi avevi tutto il tempo per in realtà per immagazzinare le informazioni e arrivare al turno successivo con un certo tipo di bagaglio emotivo che normalmente raramente fai di solito una serie te la chiudi in 3-4 turni di colonna separata invece in quel modo è durata molto di più la lavorazione è stato bello anche per quello interessante ma visto poi come trattano anche i personaggi secondari a Marvel come Wolf secondari sto cavolo secondari sto cavolo che stavo aspettando sto cavolo secondari se l'hai preparata guarda è un mese che ce l'ha pronta e se è un mese ce l'ha volata ero sicuro scolchiamo secondario John Walker il personaggio più fico di tutta la serie più fico anche di capo star lord ah vabbè della serie no della serie va bene dai sentiamo emozioniamoci con questo John Walker personaggio secondario suca si può dire suca è di quello che vuoi ok va bene suca materia anfibbia senatore le chiedo il permesso di presentare al consiglio testimonianze sulle circostanze dell'incidente con il dovuto rispetto non credo che abbia compreso fino in fondo la gravità della situazione che quindi abbia frainteso anche le circostanze so che una trattativa chiedo soltanto di essere ascoltato ho già detto che l'ho capito che è un ordine l'ho capito e come ho passato la vita a obbedire ai vostri comandi vi ho dedicato la mia vita vi ho sempre obbedito ho sempre fatto quello che mi avete chiesto sono sempre stato la persona che volevate che fossi si l'ho fatto e l'ho fatto in modo esemplare mi avete creato voi senatore io sono Captain America loro non hanno ancora capito che cosa comporta essere Captain America non posso sparire così ma che spettacolo spettacolo brividi proprio bravissimo brividi bravo 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 però però io voglio vorrei mettere un po' di pepe mettere un po' di pepe cioè ho già detto che l'ho capito no? no? come la farebbe un Emmett? carina sta cosa what if ho già detto che l'ho capito che è un ordine l'ho capito e come ho passato la vita a obbedire ai vostri comandi vi ho dedicato la mia vita vi ho sempre obbedito ho sempre fatto quello che mi avete chiesto sono sempre stato la persona che volevate che fossi sì l'ho fatto e l'ho fatto in modo esemplare mi avete creato voi senatore io sono Captain America loro non hanno ancora capito che cosa comporta essere Captain America non posso sparire così bello bello però io vorrei vorrei rilanciare 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 come lo farebbe Klaus ah ah ho già detto che l'ho capito ho capito come io ho passato la vita a obbedire ai vostri comandi vi ho dedicato la mia vita vi ho sempre obbedito ho sempre fatto quello che mi avete chiesto sono sempre stato la persona che volevate che fossi sì l'ho fatto e l'ho fatto in modo esemplare mi avete creato voi senatore io sono Captain America loro non hanno ancora capito che cosa comporta essere Captain America non posso sparire così mamma mia guarda applausi alta scuola faccio l'applauso con tollo dal microfono così non è nemmeno alta scuola alta scuola bravissimo ancora fatemi fare ancora vuoi fare la stessa cosa con un altro personaggio un altro personaggio te lo faccio scegliere a te secondo me no fai tu vado io sì vai tu è più divertente va bene come la farebbe overall sapevo che avresti scelto forza perché adesso stiamo proprio cambiando andiamo sugli anime capito un registro diverso vedo la cattiva ho già detto che l'ho capito che è un ordine l'ho capito e come ho passato la vita obbedire ai vostri comandi vi ho dedicato la mia vita vi ho sempre obbedito ho sempre fatto quello che mi avete chiesto sono sempre stato la persona che volevate che fossi sì l'ho fatto e l'ho fatto in modo esemplare mi avete creato voi senatore io sono Captain America loro non hanno ancora capito cosa comporta essere Captain America non posso sparire così uno meglio dell'altro uno meglio dell'altro e te faccio fare tutto il repertorio attenzione spanchi vuoi suggerire qualcosa? no è proprio invisibile vabbè ma tanto in effetti abbiamo fatto quelli con caratteristiche più diverse vero è ancora un asino molto simpatico un asino molto simpatico beh potremmo potremmo sfidarti visto che ti abbiamo fatto fare un personaggio di una serie di due personaggi di due serie di tv esatto vabbè uno tra poco io ero al film ma vabbè un personaggio degli anime potremmo sfidarti e chiederti come la farebbe Starlord del gioco dei Guardiani della Galassia bella questa di Starlord ho già detto che l'ho capito che un ordine l'ho capito e come ho passato la vita obbedire ai vostri comandi vi ho dedicato la mia vita vi ho sempre obbedito ho sempre fatto quello che mi avete chiesto sono sempre stato la persona che volevate che fossi sì l'ho fatto e l'ho fatto in modo esemplare ah beh mi avete creato voi senatore io sono Captain America loro non hanno ancora capito che cosa comporta essere Captain America non posso sparire così bellissima guarda questa questa secondo me anche perché il Guardiano della Galassia mi tocchi il cuore poi mi sono divertito come un pazzo quel gioco io l'ho finito certo pure io l'ho finito è una delle poche cose che ho doppiato che ho finito ma sei stato felice cavolo di stare su Starlo allora il personaggio più figo dell'MCU dell'MCU di Marvel di Comics di tutto allora io non solo sono stato estremamente felice ma mi sono divertito come un pazzo perché il personaggio è stupendo lui l'attore originale è bravissimo quindi è stato un piacere andargli appresso poi porca miseria ci sono tutte le canzoni agnotate cioè tu meni la gente con Holding Out for Hero di Bonnie Tyler o Don't Worry Be Happy tutte queste cose qua e in più è pieno di citazioni è pieno di citazioni che tra l'altro ho contribuito a migliorare dove c'era qualche inesattezza perché escono dalle fottute pareti è sbagliato e vengono fuori dalle fottute pareti sai tutte queste cose qua se può essere ferito può essere ucciso che è Predator tutte queste cose ma tu stai parlando con Mauro che ha rigiocato il gioco venti volte per trovare tutti i costumi tutti hai trovati tutti tutti mi sa che uno uno forse me lo so perso per strada però l'ho rigiocato più volte è un perfezionista un cultore di Star Lord qualsiasi altra cosa no però quando si tratta di cose a cui tengo come Guardia della Galassia cavolo no devo essere il numero uno ti capisco io ho questa deformazione professionale con Silent Hill li ho finiti su PS2 li ho finiti infinite volte sulla versione quella a Cd Remastered ho addirittura penso di ho tutti i Silent Hill ma Guardia della Galassia o Assassin's Creed bruciatele cioè per me per te no Guardia della Galassia sono divertito molto meno male temevamo di dover tagliare questa domanda aspetta in realtà mi sono divertito tantissimo a fare anche Alexios anche perché lì abbiamo dato sfogo a una verve anni 80 di film alla Schwarzenegger con delle battute bellissime che comunque era il senso di quello che lui diceva ma sono state un pochettino rimaneggiate dandogli un tocco anni 80 estremamente figo quindi è stato divertente però Starlord è molto più nelle mie corde quindi molto più cazzone ma molto più divertente in generale come hai detto ed è estremamente divertente sì il prodotto è estremamente divertente comunque Alexios ha tutte le parti più drammatiche comunque lui è molto più fondo quindi sono dovuto andare su tonalità di un certo tipo e invece Starlord è cazzonissimo è bellissimo Starlord è cazzonissimo come lo puoi dire che questo è proprio il titolo Starlord è cazzonissimo sarà una targa con scritto Starlord è cazzonissimo rende l'idea rende l'idea la grande adesso Andrea Mete trema perché insomma io sono solo lo Starlord del videogioco solo che però Chris Pratt l'ho doppiato un po' di volte vedi quindi Andrea Mete trema no 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 Andrea non so se mettere Andrea Mete o Massimo Trigiai ma vai no mi immagino te sotto casa del direttore no 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 questa è una questione di correttezza no assolutamente va bene lo so lo so però se dovesse essere lui il direttore no 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 guarda volevo dire che io sono il nuovo direttore mi ci vedo meglio a me guarda no 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 mai però se qualcuno mi volesse rimettere su Chris Pratt a me non farebbe schifo ecco perché è bravo è divertente come attore sono divertito parecchio ok ok anche perché lui è Emmett Chris Pratt è Emmett è vero questa non l'avevo collegata sì Chris Pratt è Emmett e quindi entri prepotentemente nel ventaglio capito è nel ventaglio d'opzione Andrea Mette tre ma l'affermazione abbiamo fatto all'inizio oddio non credo però attenzione che arriva Massimo Trigiani e Andrea risponderà citando che in Ciro tremo tutto tremo tutto qua nasce una faida attenzione creeremo il primo vero scontro la vera prima civil war del mondo del doppiaggio non ci può essere perché Andrea l'ha doppiato praticamente sempre quindi cosa abbiamo creato un mostro un mostro un mostro senti una cosa io vorrei parlare di un personaggio molto figo che è Klaus mamma mia Klaus è un personaggio che ti dico la verità all'inizio ne gli avrei dato un centesimo c'era la luce di cinque che era talmente brillante che oscurava un po' tutto il resto invece devo dire che pezzettino pezzettino è diventato un personaggio fighissimo allora tu conoscevi i fumetti di Umbrella Academy no cosa hai pensato come primo approccio con Klaus e le difficoltà ma anche le cose belle nel doppiarlo allora io avevo già doppiato Robert Sheehan per questo sono stato chiamato a fare il provino su Klaus e io penso che sia uno degli attori più grandi che esistono sulla faccia della terra lo amo alla follia e amo doppiarlo perché c'è una cosa che va detta allora quando tu doppi se c'hai l'attore cane è un problema anche perché abbaglia e non parla questo non l'avevo non ci avevo pensato hai perfettamente ragione ma oltre alla questione che abbaglia e non parla c'è anche un altro problema che l'attore cane non ti dà riferimenti perché tu lo segui è cane quindi in realtà dovresti cercare di non seguirlo eccessivamente se no risulti cane anche tu però d'altra parte se la faccia è quella non è che puoi fare delle cose che non c'entrano niente con la sua faccia perché se no scolli quindi è complicato l'attore bravo fa tutto quanto lui cioè ti ti dà ogni informazione necessaria per fare una cosa fatta bene il problema è che poi lo devi fare lo devi seguire quindi è ottimo perché ti dà chiaramente le idee di quello che devi fare e poi sta a te essere abbastanza bravo a seguirlo però c'è un'altra cosa il ritmo mi è uscito un po' alla John Walker sta cosa no c'è un'altra cosa il ritmo perché diceva io non sono come Tony Stark non ho questo però una cosa il coraggio mi è uscita la stessa identità ormai ce l'hai dentro comunque si dicevo il ritmo nel senso che ogni persona ogni attore hai il ritmo nel sangue al ritmo nel sangue ma oltre a questo madonna sa che brutte i tuoi punti di dignità sono scesi a livelli imbarazzati hai preso come minimo hai preso un malus è la mia quota nella registrazione capito quella di ogni tanto esci come una battuta triste che abbassa il tuo livello ma poi le tagli queste cose è un rimango a livello narrativo è importante abbassare un pochino l'aspettativa per poi per poi risalire certo qua lasciamo tutto tagliamo proprio cose eccezionali però di solito di solito ma anche perché poi le figuracce sono belle ma guarda che io già mi aspetto gli insulti ma non faceva ridere ma non doveva far ridere no deve essere solo triste per abbassare il livello di vita comunque stavo dicendo ognuno di noi ogni attore ha un suo ritmo quindi mi fai ridere pure a me cioè abbiamo fatto la foto no io lo dico allora abbiamo fatto la foto e di volta stavo lì faccio tutti quanti così e poi c'è avuto questa cosa e poi sbroccavamo a ridere tutte le volte cioè non so quante volte l'abbiamo fatta infinite Polaroid ci ringrazia infatti calcolate che ho pagato un intero rullino solamente per le foto con Massimo Bellissimo bellissimo sono fiero di questa cosa qua vabbè comunque sia tornando al discorso del ritmo ecco allora ogni attore ha un suo ritmo quindi anche quando ti capita l'attore bravo se lui ha un ritmo diverso da quello tuo diventa comunque difficile seguirlo invece io col ritmo di Sian mi trovo meravigliosamente bene nel senso che magari se fossi bravo come lui in presa diretta le farei uguali le farei col suo ritmo quindi in realtà a parte la difficoltà di stare appresso alle 3000 cose che fa perché lui è un attore che fa 3000 cose con la faccia con gli sguardi cambia tantissimo intenzione all'interno della stessa frase fa 2000 cambi quindi al di là della difficoltà di fare tutti i cambi che fa lui io a livello di ritmo recitativo mi ci trovo bene quindi non ho difficoltà a seguire il suo ritmo anzi mi ci diverto un botto e cosa succede nell'ultima stagione di D'Umbrella Academy e chi ti ha detto che l'abbiamo doppiata l'ultima stagione di D'Umbrella Academy è scelotto è scelotto agosto io non ne so niente non lo so io l'ho buttata là io non ne so assolutamente niente io non ne so assolutamente niente se la vale male che cosa ah ok quello che ci ha raccontato nel pre-registrazione è tutto fatto è tutto finto mamma Netflix non è vero mamma Netflix non è assolutamente vero dobbiamo scagionarlo a questa cosa no Maria a un certo punto vedete il puntino rosso qui non c'ha di sangue sul muro non sappiamo niente non è vero si sta ironizzando io non so niente Massi Massi è stato molto bravo perché la mia domanda è proprio pungente non so niente non l'abbiamo neanche doppiata guarda neanche la doppierò io non sono niente non mi hanno nemmeno chiamato è scelotto agosto potrei uccidere qualcuno se non mi chiamassero a doppiare Klaus potrei uccidere qualcuno se non mi chiamassero dovrei venire fuori il mio lato berserker hai presente tra l'altro voglio dire hai presente John Walker con lo scudo uguale quando fa quella ragazzi quando ho visto quella scena quella dello scudo quella dello scudo no cioè io sono rimasto così infatti dovevo dire poi la battuta Massimo io eh oh scusa scusa eccomi dimenticato oh che scena meravigliosa eh cavolo c'è uno che ha detto una cosa una persona che ha detto purtroppo non mi ricordo il nome un ragazzo che mi segue su Instagram ha detto una cosa bellissima al tuo Morgentau ho avuto seri dubbi sulla mia eterosessualità cavolo questa è una dichiarazione importante questa è stata una cosa meravigliosa anche perché quel Morgentau ok quindi tu ti trasformeresti in John Walker se Alessia Mendola ti toglie Klaus no Alessia non mi toglierebbe mai mai dire mai no Alessia non lo farebbe mai chi lo sa mi vuole troppo bene non lo farebbe non sto dicendo che mi stima come artista mi vuole bene va bene va bene ma 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 niente tra l'altro Alessia io devo fare un po' di pubblicità tanto la posso fare al limite la tagliamo quindi va bene vedetevi Telma l'unicorno non perché ci sono io ma perché c'è Alessia Amendola che è strepitosa e canta e canta da Dio quindi vedetevi Telma l'unicorno è un film meraviglioso bellissimo divertentissimo Telma l'unicorno Telma l'unicorno è un film di animazione ma canta anche te non perché ci sei tu non perché ci sei tu però non canta no non canto ho cantato in qualche cosa scusa cantaci qualcosa così c'è una ragione che cresce in me cantaci è meraviglioso è meraviglioso è meraviglioso è meraviglioso far parte di un team è meraviglioso se tu sogni con noi allora ha un qualcosa ma per me no il ragazzo il ragazzo si vede si vede che potrebbe applicarsi di più potrebbe applicarsi di più ha del potenziale potrebbe applicarsi di più ha del potenziale e tu le dici queste cose così all'impronta è certo che te le dico è mi è venuta così poi scusa sei un bastardo hai fatto fan Max che canta come a me cavolo ti metto vicino a change the world prima si capito prima Massimiliano e poi è meraviglioso è un confronto alla pari comunque eh cacchio cavolo orca paletta no ma devo dire che quel momento è stato lo dico qua il più bello da quando faccio questo mestiere cioè il momento meraviglioso quello con Max che ha cantato unico tra l'altro mai stato fatto è stato meraviglioso meraviglioso è stato meraviglioso quindi Klaus personagione sta dedoppiando l'ultima stagione non so assolutamente niente di questa cosa e a proposito adesso ci farei sentire un qualcosa di Klaus una scena molto toccante molto particolare cioè particolarissima molto particolare molto intensa chissà 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 come la farai se la farai proprio uguale no per niente perché 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 non me la ricordo come non te la ricordi adesso il fandom di D'Umbrella attenzione ma lui ha Klaus nel sangue quindi anche se non se la ricorda Klaus e il ritmo ricorda sempre le tue cose quindi adesso ci emozioneremo insieme a Massimo Klaus mia madre è quella biologica in Pennsylvania l'ho scoperto anni fa ero a pezzi venivo da due settimane di Baldoria e non so dirti la data precisa era il periodo dell'Oxanax sparato nel culo ma Amy Winehouse era in cima alla classifica questo dove ci colloca verso la fine degli anni zero ero nell'ufficio di papà a cercare la chiave della cassaforte dato che aveva chiesto a poco di nascondere le cose di valore e invece ho scoperto i segreti della nostra famiglia raccontati attraverso degli assegni scaduti Rachel Eschberger ero troppo sballato e troppo spaventato per cercarla ma nei meandri della mia mente continuava a ronzare una domanda perché mi aveva venduto per 3.000 dollari ne valevo perlomeno 5 o 6 perché allora papà ci rinnega Grace on the Grace bene andato mi sembra il momento ideale per scoprire chi sarei potuto diventare se non fossi cresciuto in questa stupida famiglia ma cos'è la famiglia che cos'è è una specie di enorme gomitolo impossibile da districare e più invecchia più diventa grande per quanto cerchi di districare la matassa continuo a crescere ma a che pro ehi sono felice che tu sia venuto con me sei un bravo fratello 5 beh 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 ragazzi beh e 5 non lo caca proprio dopo che lui dice questa cosa se non vi siete emozionati qui non siete onesti non siete onesti con voi stessi diciamo come famo le vaglie claus come fai come famo gli manderemo cioè manderemo questa clip a alessia mendola e proprio scrivendole non gli si può togliere so che l'intenzione era quella ma scusa ma alla alla quarta stagione sarebbe veramente una cattiveria immonda eh almeno fammela finire eh tra l'altro devo dire una delle cose più belle è stata nella terza stagione perché contemporaneamente una a distanza di una settimana io ho doppiato un'altra serie Netflix con Sheehan che è l'ultimo boost del mondo quindi non mi era mai capitato cioè io ho finito una lavorazione con Sheehan e una settimana dopo ho incominciato la terza stagione di The Umbrella Academy era come andare era come uscire con un amico oh Robert dai andiamo a fare una pizza su vivi la tua vita un quarto di Sheehan alla volta è una cosa bellissima è una cosa bellissima è stata che emozione che emozione tanta roba sì sì va bene adesso vogliamo vedere però come te la capi con l'improvvisazione sì cioè l'improvvisazione è difficile diciamola tutta a legge sono buoni tutti a legge sono buoni tutti soprattutto le battute che non ricordano di aver fatto non è vero è di una difficoltà incredibile io ogni volta che c'è un attore un doppiatore straordinario che recita qui sul momento mi emoziono perché siete bravissimi cavolo è difficile grazie al nome di tutti è vero è vero cioè i complimenti quando sono meritati è un piacere farli è un piacere riceverli questo sempre per la cosa autoreferenziale però diciamo che adesso hai un vantaggio nel senso che a improvvisare con te ci saremo anche noi quindi tendenzialmente è tipo il ragionamento la persona più figa che esce con quella meno figa capito ma sai che non è detto perché l'improvvisazione come quando diffidate sempre di quelli che fanno i provini su improvvisazione perché l'improvvisazione in quanto improvvisazione può venire benissimo può venire una cacata comprate solo originali Walt Disney ma chi se ne frega cioè noi facciamo schifo se devi essere te a essere bravo potrei fare schifo anche noi abbiamo la scusante noi siamo corruttori siamo presentatori lui è un attore cavolo come dicevo io prima l'improvvisazione essendo un'improvvisazione tipo uscì da dio e tipo uscì una schifezza mettere le mani avanti così non diranno è una pippa perché l'ha detto prima esatto quindi là è abbassato le aspettative ho abbassato le aspettative se si è fatto il figo poi magari facciamo una schifezza vecchio volpone eh? allora Massimo non viene invitato a un'anteprima di un importante film alla quale si rappresenta un attore internazionale lui reputa il suo mito strano non mi invitano mai quindi insomma decide comunque di andare proverà di imbucarsi cercando di convincere con ogni mezzo i due addetti alla sicurezza Man e Andrea a farlo passare comunque senza invito sei pronto? è tosta questa sei pronto? eh che tappamo facile cioè dobbiamo inventarci qualcosa no? quindi se tu cioè noi siamo pressoché l'ho detto alla sicurezza siamo lì e commentiamo siamo là mezzi mudi però devi essere te a convincerci a farci entrare a farti entrare sei pronto? iniziamo ti diamo noi l'attacco e poi ti agganci e poi parti tu siete bastardi questo è veramente testo andiamo eh non ti diamo troppo tempo perché no 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 se non c'è gusto vai vai allora vado io sì oddio Andre ecco ne un altro oh no salve salve buongiorno senta io devo assolutamente andare lì dove? lì lì davanti ma lì ma lì tendi qua dietro? cioè devi passare sta porta te scusate stiamo guardando da questa parte o dall'altra parte? ma lei sa che qui dentro c'è un evento esclusivo lo so che c'è un evento esclusivo ma c'è la mia ragazza la mia ragazza è incinta e mi ha chiamato dicendo che non si sente benissimo quindi dovrei un attimo controllare ma ce ne andiamo via subito ce ne andiamo via subito non si preoccupi chiama la sua ragazza viene qua me la fa vedere ok lo chiamo un attimo certo Andre questo sta messo male no non prende mi dispiace cavolo una cosa urgente ma vado un secondo venite con me mi dispiace non posso farla entrare se non all'invito ma non mi dovete non mi dovete far entrare cioè non dovete c'è il senso non dovete lasciarmi andare lei non può scavalcare questa linea questa questa ma c'è un'urgenza se sta male non posso farla entrare tanto è un evento su invito lei ci dà il nominativo noi entriamo e ci informiamo su chi era la sua fidanzata aspetta ho qua proprio la lista il suo nome qual è il nome no no finale con cliffhanger raga ti venire proprio all'applauso cioè io non ho nel trambusto non ho capito se ha scavalcato o ci ha picchiato no no ho scavalcato sono partito ho fatto tutto probabilmente sono anche inciampato ho anche fatto e mi sono appoggiato a qualcuno per riprendere la passerà la notte in prigione ma almeno però ne è valsa la pena ci sono anche riusciti ci sei riuscito certo è ovvio ho tirato fuori il mio dvd del suo cosa mi sono fatto fare la dedica poi mi hanno arrestato però comunque mi hanno braccato in 25 perché nel frattempo noi abbiamo non mi hanno neanche arrestato perché quando io ho fatto sta cosa tutti gli altri perché avevi detto che ecco un altro tutti gli altri che stavano hanno fatto irruzione vanno calpestato sono andati tutti quanti tipo invasione di campo tipo invasione di campo e quindi tutti quanti esercito delle 12 scimmie esatto bravo esatto e quindi tutti quanti ci siamo fatti fare l'autografo in faccia e poi tutti quanti sono i licenziati voi i licenziati noi facciamo in due non siete riusciti a fermare sto 47 persone dopo dopo però prima mi hanno anche portato su eroe eroe diciamo anche un po' colpa tua andrà perché stavo leggendo la lista il nominativo tu che facevi dovevi bloccare mi sono distratto mi sono distratto perché perché pensavi che fosse la cosa più normale del mondo lui leggeva vedeva se c'era e poi voi decidevate che fare e invece no perché ma sai perché perché dietro di lui c'erano altre persone altri soggetti che stavano provando a fare la stessa cosa si sta arrampicando sugli specchietti retrovisori devo salvare il mio posto di lavoro questo finale mi è piaciuto un casino Massimo sono contento sono estremamente contento dai è andata bene perché non c'è l'altro modo per risolverlo è andata bene però è andato troppo bene Andrea che dici lo dobbiamo portare su un campo minato ma più di questo porca miseria su un campo minato ma del tipo gli facciamo un po' spiegare un dialetto non suo visto che non è ma tu ce l'hai? hai quel libro? ce l'ho hai quel libro lui Massimo lui ha un libro che è tipo non lo so la Bibbia dei Romani esatto io sono di Bari ancora meglio è che a Bari inseleggia la Bibbia scusa sì in Barise però oggi impareremo il romano con Massimo Trigiani stiamo messi bene quindi Massimo io ti do la Bibbia ma che figo a Roma si dice così tu prendi due termini che ti aggradano ti do anche la penna Elvis per segnarteli questa è la penna Elvis dove con la penna sul coso tutti i segni vicino al coso come l'hai chiamato te perché mi dispiace chiamarlo libro scegli la parola e vicino alla parola ci metti un bel Massimo così quella parola sarà sempre tua e nessun altro io l'ho già trovata la leggerà quindi iniziamo con la prima che hai già trovato che è guarda il pathos suspense suspense vedi ci fa anche vedi l'attesa guarda che Massimo Massimo no quanto cacchio mi sono esaltato quando ho visto il gladiatore dal pubblico Massimo Massimo ma intanto mi alzavo ci credo quindi che parola hai scelto siamo curiosissimi la prima nel frattempo se l'hai dimenticata no 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 perché ho scritto Massimo grosso quanto una casa ho scelto daie 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 sentiamola l'incitamento romanesco per eccellenza è infatti daie fa romano come poche altre espressioni la traduzione italiana corretta è forza un incitamento ma anche un'espressione di impazienza dipende un po' dalla situazione e dal tono con cui viene pronunciato verissimo perché fa e daie quando un vostro amico continua a raccontarvi di qualcosa che vi crea fastidio e daie per la buona ritorna a daie manca avesse letto no ti giuro non l'avevo letto sta per smettila per favore non ho più voglia di ascoltare le tue chiacchiere quando invece siete davanti alla televisione la vostra squadra del cuore sta attaccando i daie urlati da uomini puzzolenti di birra con la pressione a 200 hanno il chiaro significato di ecco il momento non moliamo proprio adesso avanti ragazzi daie tutta daie se ci pensate ignazio marino sindaco di roma fino all'ottobre 2015 con questo slogan ci ha vinto le elezioni ma dai non me lo ricordavo mica la forza del daie la forza del daie 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 ammazza è un grande ti rendi conto mica pizza e figa quindi vanno a fare il provino la prossima volta anziché fare le battute faccio daie 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 in quel caso potrebbe daie 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 capito oppure no inizia a salutare a tuo tipo daie oppure ancora più suddolo quando dici quando ti presenti perché tu quando fai i provini poi a un certo punto dici provino per tal dei tali Massimo Trigiani concludo dicendo daie esatto come messaggio subliminale quindi arriva e dicono diamo questo questo è positivo questo mi piace questo ci sta questo secondo me ci sta sul personaggio è passionale vai cordaglie vai cordaglie poi scegliamo un'altra quindi adesso devi scegliere un'altra si l'ho trovata ammazza no cacchio me la sto ecco una persona più veloce a trovare le parole da leggere c'ho un momento scusate c'ho un momento perché c'erano due che mi piacciono ok ballottaggio ballottaggio quella lunga voi che non vedrete mai questo momento scrivete no voglio far vedere non glielo fai vedere lo facciamo vedere se gli facciamo vedere questo momento magari magari asciughi perché io ne ho trovata un'altra adesso mi devi dire come montai video lui fa l'ospite l'host la regia faccio tutto faccio tutto poi mi metto sui protagonisti torna sempre lo stesso discorso però ce ne sono un sacco fighe ragazzi devi scegliere una lo so infatti sono in crisi mistica scegli la più lunga che mi ispira ok la più lunga vai se vediamo che hai scelto ci si sta impegnando vedi con la linguetta pure cioè sono dettagli proprio qual è? scrocco scrocco aspetta vogliamo fare una cosa andrea ogni punto mi cambi voce quindi proprio come ti pare cioè non per forza di un personaggio però mi cambi voce ogni punto scrocco è un po' come lo stesso discorso di sbafa c'è chi mangia a scrocco e addirittura campa a scrocco ma quante volte hanno anche un nome che deriva dalle loro azioni si tratta degli scrocconi sono sempre loro che non hanno mai la macchina a disposizione e devi passare a prenderli e a riportarli sono sempre loro quelli che non hanno i soldi di taglio piccolo e quindi una volta che c'è da pagare il conto non sanno mai come fare sono sempre loro quelli che non ci ho pensato a comprare il biglietto di auguri prima di andare a un compleanno o una cosa che dovevi fare che cavolo non si sa mai che cacchio di un euro sti scrocconi ho sbagliato non sia mai che un cacchio di un euro sti scrocconi bellissimo che poesia bellissimo questa era una poesia poesia in movimento anzi poesia statica che è di fermo poesia statica in realtà non mi muovevo bellissimo che poi ha cambiato anche in corso non solo ha aggiunto complessità la nostra complessità io pensavo già fosse difficile così invece no l'ha fatto all'interno perché andava a capo quindi capito andava a capo andava a capo in realtà a volte è un pezzo della parola ci ha voluto umiliare aggiungendo difficoltà a una cosa già difficile Massimo Trigiani nuovo autore di The Man Under The World potrei avere un gatto bianco da carezzare facendo ma tu stai adesso adesso ti senti diciamo in uno stato di vittoria ti senti tutto vittorioso a petto a petto largo ma tranquillo che arriverà un qualcosa che forse ti metterà in difficoltà in questo momento mi sento un po' come Raudican il guerriero contro un villico sai quelli che di solito calpesta con il re nero bello bello ma lo vuoi proprio mettere subito in difficoltà beh visto che lui ci ha voluto umiliare così allora ci abbiamo una prova che si chiama dieci senti che nome poetico tu devi ripetere per dieci volte una parola molto veloce non è che mi fai che ne so ciccia ciccia devi dire qualcosa tipo ciccia 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 velocissimo sì ma non lo dirò per dieci volte è trententatica io ho un'articolazione di merda capito ma proviamoci non ti buttare giù la parola hai voluto fare il fenomeno adesso quindi è giusto che tra l'altro io spanchi ma le inquadrate spanchi 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 che fatti tutto per non farsi scammare invece poi le ha scammato dai poverina sta mettendo l'acqua al nostro ospite però però io direi così è ancora peggio però io direi anche una cosa scusatemi sì ti sono sbrodolato si è sbrodolato che gli fa cioè spanchi dovrebbe avere cioè la trattate veramente come cenerentola porastella ma spanchi è stata protagonista di tanti episodi ah ok allora non lo sapevo questo episodio non lo sapevo 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 però è presente spanchi la vedrete spesso non vi preoccupate anche pure troppo spanchi anche me però grazie spanchi quindi non cambia un po' niente però la parola è procrastinare ma vaffa dai procrastinare ma non riesco manca a dirlo procrastinare non è procrastinare io ci ho scritto procrastinare però spanchi però spanchi spanchi è procrastinare me lo confermi dalla regia procrastinare procrastinare quindi lo devi dire per dieci volte di seguito senza sbagliare procrastinare 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 te sei impicciato se ti mattava quindi diciamo che sei arrivato a 6 c'è un altro tentativo procrastinare 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 si ce l'abbiamo al tezzo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo al tezzo diciamo che il secondo ho detto un'altra parola il secondo ho detto un'altra parola me lo puoi anche abbonare è come se si detto gelato Spanchi sta facendo non era facile era facile cioè Spanchi sta dissando Spanchi come era l'altro? acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico 10 volte però è anche piacevolissimevolmente piacevolissimevolmente però acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico è veramente bastardo però si può dai acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico Mauro con la testina ti dava un ritmo però era un po' lentino se capisci un cacchio acido desossiribonucleico acido desossiribonucleico però dai l'ha superata facile o non facile lui ha superato la prova quanti altri possono dire non lo possiamo spiegare vedrete vedrete vabbè Max ha si impurato sicuro no Max no Max è arrivato al 7 e David era ah non si può dire non è ancora uscita vedrai uscirà domani la puntata ah che figa cioè per loro sarà giusto domani vabbè stavo a registrare non abbiamo i ripresi temporali questa la tieni questa la tieni la teniamo 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 questa è la puntata Extended Cut questa è la Snyder Cut la Snyder Cut di Man Under The Wood cioè presente Boris quando fa perfetta benissimo tanto la tagliamo Massimo ha chiesto l'extended e quindi vediamo di fare questa l'extended edition da 4 ore da 4 ore in tutto ciò noi abbiamo un'ultima lettura che è ahimè di un prodotto giapponese un anime sappiamo che Massimo odia questo tipo di prodotti dice mi sono stupato mi mettono sempre su queste cose a me i cartoni giapponesi mi fanno schifo proprio così ha detto prima di entrare a me non mi piace per niente lavorare sui prodotti giapponesi oh che schifo non mi ci mettete più facciamo un appello direttori non mi piacciono Massimo sui prodotti che schifo che schifo vero soprattutto quelli di un po' di tempo fa che erano veramente ma anche quelli di adesso vabbè ci fai sentire sto patriota giapponese il patriota giapponese senza mascherina senza mascherina il patriota giapponese quindi stai parlando di overhaul esatto il patriota giapponese patriota giapponese sei carico sei pronto? sì gente strana che non ha un luogo a cui appartenere un piccolo gruppo di adulti grandi e grossi che perde tempo rubando la cassa di un discount che assurdità di norma agendo in gruppo si dovrebbero puntare obiettivi un po' più azzardati voi siete malati e i malati vanno curati ovunque io guardo è pieno di gente malata ci tenevi così tanto a diventare un eroe vero? desideravi così tanto salvare Erile Emilion al giorno d'oggi è questa la nuova malattia guarirò tutte le persone come te insopportabili malati di sindrome dell'eroe e lo farò usando il potere di Erile è la prima volta che devo spingermi a tanto la tua è stata una vita davvero misera Emilion se non ti fossi messo in mezzo tra me ed Erie di sicuro non avresti perso per sempre il tuo quirk se non ti fossi mischiato saresti potuto rimanere aggrappato al tuo sogno anche dopo averlo perso hai continuato a insistere con l'unica conseguenza di aver coinvolto anche i tuoi compagni e ora farete tutti una brutta fine cavolo posso dirti che io non ho mai visto Mairo Accademia ora lo vedrai però questa cavolo di interpretazione è stata da brividi io mi aspetto che qualcuno dica che commenti sotto tiktok youtube o instagram dicendo adesso sono incinta può essere però cavolo bello piaciuto? si è molto figo ma è tipo un antieroe che tipo di personaggio è un cattivo è proprio cattivo lui vuole curare perché considera una malattia lui considera una malattia si esatto e quindi vuole curarli e curarli vuole ammazzarli quindi in realtà non vuole curarli vuole proprio uccidere curarli è una parola grossa comunque fagli perdere l'uso del querc ma non ha dei poteri quindi pure lui in super in realtà il contrasto è quello che anche lui ha il querc quindi finirà uccidendo anche lui ha il querc però e poi tra l'altro lui fa parte di una famiglia mafiosa ma lui avendolo odia a se stesso manco per sogno e quindi io odio gli altri tra l'altro è anche germofobico infatti ha i guanti ed è per quello che ha la mascherina si è bello che distrugge anche le persone toccandole e quindi poi si pulisce perché gli fa schifo ah ok ti è piaciuto da morì da morì da morì tantissimo tantissimo mi sono comprato per la mia quota perle così da lanciare il querc non è una parola in dialetto sardo è in dialetto barese giusto esatto esatto e significa se può dire volgare no però figo cioè devo ammettere l'estetica del personaggio è molto interessante con sta maschera è fichissimo perché c'è sta maschera da medico della peste e lui è germofobico quindi è molto figo è un bel contrasto sì ma mairo accademia ha prodotto molto in voga no? molto figo mairo accademia ti terresti il tuo overall o potendo scegliere qualsiasi altro overall tutta la vita cioè tu mi vuoi far credere che se non avessi doppiato il mairo accademia ti avessi chiesto scegli chiunque avresti comunque scelto overall o adesso sei un po' condizionato dal fatto che io credo che forse sono condizionato dal fatto di averlo fatto perché mi è piaciuto veramente tanto quindi sai chi lo sa non lo so non te lo saprei dire però attualmente tu diresti comunque overall sì perché mi è piaciuto da morire ti è piaciuto eh no no mi è piaciuto veramente tanto cercherò di recuperarmi qualcosa solo di questo personaggio perché ma poi si sa cioè i cattivi sono più interessati eh dipende tendenzialmente sì dipende dal buono perché il buono può essere cioè Klaus è buono ed è fichissimo è buono è buono per ora che ne sai nella quarta stagione no eh questo non lo so perché non lo fa nella quarta stagione non ne ho più ha aperto una setta però è buono è una setta di persone che si vogliono bene che si divertono sono rilassati e soprattutto che venerano i testi delle canzoni anni 80 è bellissima questa cosa però diciamo che quando doppi i cattivi generalmente sono sempre cattivi che hanno una motivazione cioè che sono arrivati ad essere cattivi tipo Walker beh no 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 stai dicendo un'inesattezza John Walker non è un cattivo lo dimostra durante tutta l'evoluzione del suo personaggio John Walker è un buono ed è forse il personaggio più umano che si sia mai visto nell'MCU è un uomo normale che viene portato al punto di rottura e nonostante questo non diventa un cattivo perché ricordati che lui se può scegliere tra inseguire Morgenthau e vendicare Lamar salva le persone sì però questo nel percorso perché quando doveva farsi accettare come Capitan America ha combattuto contro Falcon ha combattuto perché quelli l'hanno trattato come uno cioè lui è andato a chiedere aiuto a Bucky e a Falcon l'hanno trattato proprio a Pesci in faccia quello è venuto umilmente dicendo voi conoscevate Steve Rogers quindi datemi una mano cioè lui lo dice pubblicamente che lui non arriverà ad essere Steve Rogers però farà il più possibile per essere all'altezza di quello che lui considera un mito quindi è un personaggio meraviglioso tra l'altro tra l'altro lui è uno che senza avere super forza e niente sa usare lo scudo di Cap voglio dire che non è che sanno usare tutti è un super pluridecorato è uno che si fa anche il problema perché parlando con Lamar dice pure sulle medaglie dice pure mi ha colpito tanto sta cosa cioè noi abbiamo ottenuto queste medaglie ma noi abbiamo ammazzato delle persone è un uomo con una etica profonda poi sbarella ma quando sbarella sbarella quando uno pia le sveglie da tutti i potenziati e lui non è potenziato e si sente impotente due gli fanno il siero del super soldato che amplifica come loro dicono le emozioni e in quel momento gli ammazzano il suo migliore amico voglio dire chiunque sarebbe sbroccato uno col siero del super soldato che amplifica l'emozione in quel caso di rabbia assoluta ci sta tutto ci sta tutto quel personaggio è scritto da dio e ha un'evoluzione bellissima e dimostra appunto col finale che lui è sempre una persona buona semplicemente è stato portato all'esasperazione quanto mi ha convinto mamma mia è vero mi potresti vendere qualsiasi cosa ma tu avresti accettato il siero del super soldato cioè tu ti saresti sottoposto al porca miseria mi fanno il culo tutti quanti che sono super potenziati certo e se no come fai cioè non è una lotta impari cioè in un mondo di dopati per sopravvivere devi doparti anche tu dipende dal ruolo che fai in un mondo di dopati se tu sei Captain America se tu quindi porti la pace e la giustizia e devi combattere i cattivi non puoi essere inferiore ai cattivi capito perché non stiamo parlando del super cattivo il boss finale stiamo parlando anche delle pippette anche le pippette c'avevano le pippette come si chiama se potete i pippetti se potete ma se potete i pippetti e no vi tagli oh che tagli qua si lascia prima ex 8 ore di intervista e dico siccome anche le pippette hanno i super poteri e come fai sei destinato a perdere per forza allora non ha senso il tuo ruolo vero vero ci sta Andrea se sei d'accordo io chiuderei con un ultimo personaggio e poi andremo alle domande della community per anche dare mi sembra giusto dare spazio un riconoscimento a chi volevo aggiungere una cosa ma certo a proposito di questo percorso io ho doppiato un altro personaggio che è Agente Libertà Ben Lockwood in Supergirl e lui ha un percorso molto simile a quello di John Walker con la differenza che poi diventa il cattivo tra l'altro diventa è un cattivo fichissimo perché diventa cattivo su due fronti come Agente della Libertà quindi cattivo fisico e come Ben Lockwood che diventa addirittura diventa non mi ricordo se si occupa proprio della questione degli alieni per il presidente degli Stati Uniti e inizia la sua carriera facendo tutti i talk show dove dice quanto sia pericolosa la minaccia degli alieni all'interno della comunità quindi noi siamo dei cattivi noi potremmo diventare dei cattivi tutti quanti potremmo perché ci sono Ben Lockwood ha tantissime motivazioni per cui lui parte come un buono succedono tutta una serie di cose che lo portano al punto di rottura la differenza è che mentre John Walker continua ad essere un buono Ben Lockwood supera quella linea del punto di rottura quindi è molto figo bello mi hai convinto anche qua quindi hai fatto il John Walker cattivo della DC ci sta dicendo esatto John Walker da una parte tutti John Walker tutti John Walker siamo diventati io chiuderei con prima ce l'hai citato Devilman mamma mia cosa ha significato per te essere Devilman perché Devilman è un personaggione grande un'eredità passata incredibile è stata una roba bellissima cioè quando ho saputo che avrei ma c'è un'altra cosa da dire non è Devilman così e il Devilman degli OAV degli anni 90 che per me sono delle cose meravigliose cioè io sono un grande amante dell'animazione giapponese di quegli anni anni 80 anni 90 ci sono delle pietre miliari pazzesche come Ninja Scroll Vampire Hunter di Bloodlust quando c'era una cura del disegno pazzesca e i due OAV di Devilman che io con cui ho fatto di cui ho fatto il ridoppiaggio che siamo io e Maurizio Merluzzo io Akira e lui Rio sono dei capolavori per quanto mi riguarda quindi non solo io ho avuto l'enorme privilegio di doppiare Devilman ma di doppiare Devilman lì quindi è stato bellissimo mamma mia mamma mia l'unica cosa l'unica cosa che mi ha stonato un pochettino è il fatto di chiamarmi Akira che è giusto che la pronuncia corretta perché per una vita ero abituato a dire Akira 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 ma quindi sarebbe Akira Toriyama eh sì no mi è crollato un mondo sì sì mi è crollato Akira Toriyama eh lo so purtroppo perché è anche il film quindi Akira io ho sempre detto Akira e invece è Akira e quindi è Akira Fudo Akira Fudo Akira Fudo che strana sta cosa pazzesco vedi le scoperte grazie a Massimo Trigiani cultore esatto quante ne so degli anime degli anime giapponesi quante ne sai vediamo vediamo le domande della community chiediamo in bellezza ma c'è una sigla per le domande della community no no le domande della community le domande della community ok no però non c'è hey hey le domande della community esatto adesso useremo questo e la facciamo incidere a Massimo le domande della community hey bellissimo anche lì allora Ted Lasso Italia ti chiede qual è la cosa più folle che hai fatto durante un addio al celibato eh quante ne sa quello è il volto cioè scusa l'addio al celibato no vabbè sono diventato pure rozzo il mondo io so che come ti ho fatto questa domanda tu hai avuto in mente un preciso momento sì ma non te lo dirò mai parlaci per allegorie no 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 perché direi cosa ha fatto un tuo amico no no è con cacchio è stato stupido proprio dai su però è una di quelle domande che ti fa subito venire in mente posso dire una cosa c'entra la gnocca eh sì certo cosa folle può anche essere che ne so mi sono ubriacato ho lanciato un bicchiere addosso al muro e mi hanno arrestato per disturbi no no è più banale è più banale è stata di te spogliarello toccato ma tanto non ti dico niente è inutile che tu cerchi di portare là mi dispiace te ma ora ci prova ci prova caro Ted Lasso Italia Massimo non ha voluto sono cose personali volontariamente rispondere a questa tua domanda legittima perché comunque il box era la domanda più folle originale verrà scelta effettivamente abbastanza folle chiedere che cosa hai fatto ad addio al celibato ma come ti è venuto cioè nel senso però no 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 io apprezzo la cosa ma no per replicare magari no perché lui voleva vedere quello che hai fatto tu e voleva confrontarlo lui magari diceva guarda che ho vinto io perché senti un po' che ho fatto all'addio al celibato o all'addio di qualcuno esatto invece no mi dispiace la tua curiosità non verrà soddisfatta purtroppo purtroppo no ultima domanda come ultima solo due certo ne selezioniamo due che ne selezioniamo ho capito quanto ti durai l'intervista sette ore e mezzo ma poi scusa ma dove sta l'affannarsi al fare la domanda e poi quando la leggi e senti il tuo nome che bello se ne facciamo settecento tipo Natale quando scendi e trovi i regali sotto la è vero non l'avevo vista da questo punto di vista è una figata pazzesca esatto non ha risposto ne puoi fare un'altra no non ne faccio un'altra te ne beccherai due vabbè proprio per giustizia giustizia no è cattiva perché la prima non risponde la prima non hai voluto rispondere certo sarà colpa tua colpa di Massimo Trigiani che non ha voluto onesto la seconda è di umif 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 scusate abbiate nick meno complicate umif page umif punto page umif punto page non è milf è umif io non l'ho neanche pensato certo che è la giaccelibata esatto ah c'entrava una milf ok quale scena di un tuo personaggio vivresti e quale avvenimento della tua vita faresti vivere a lui quindi devi scegliere due cose la prima una scena di un tuo personaggio che vivresti tu e la seconda invece un avvenimento della tua vita e faresti vivere all'altro uno dei tuoi personaggi porca miseria non va rispondere manca a questa no risponde a questa però è complicata è complicata capisci perché ne prendiamo solo due non ne possiamo rende settecento poi è di un personaggio quale vorrei vivere cazzo vorrei avere tutte cose tragiche spanchi suggerisce ma che qualunque cosa che ha fatto Klaus in realtà probabilmente no 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 tranne i momenti quelli brutti di Klaus quando viene messo una cosa no 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 quelli no quelli no quelli no l'avete messo in crisi stasera senza parole guardalo come lì e prova a prendere tempo a dire no ma che che fanno doppiati parecchi di personaggi quindi cercare di pensare a una scena che vorrei una scena specifica sì una scena non proprio cambia vita col tuo personaggio cioè proprio una scena che vorresti vivere perché in realtà ti potrei dire che mi piacerebbe provare l'emozione di essere il signore assoluto di una setta ero sicuro che scendeva quella però non è una scena è proprio un periodo di vita di Klaus un arco narrativo va bene però lo facciamo andare ce la facciamo andare bene cioè il momento in cui Klaus apre una setta io voglio essere il loro leader sì 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 mi piace mi piace mi piace e poi una cosa che farei vivere a chi una cosa tua che faresti vivere invece a un tuo personaggio magari dici farei vivere a Klaus l'emozione di doppiare Klaus sarebbe proprio un inception incredibile esplode la realtà Klaus che doppia Klaus bello farei vivere l'emozione che ho provato io quando l'ho doppiato bellissimo bellissimo mi piace tantissimo ma a quel punto dovrebbe doppiare te o dovrebbe doppiare se stesso dovrebbe doppiare se stesso in italiano ok ok perché pure l'alternativa di ci sei tu nello schermo e lui doppia fuori no perché lui deve vivere quello che ho provato io quando ho doppiato lui e per lui sarebbe doppiare se stesso appunto esatto lui doppia se stesso così si rende conto ancora di più di quanto è bravo il suo ego aumenta però alla fin fine prova le stesse emozioni che provo io perché ero proprio felicissimo di farlo fantastico bellissimo con questa chiusura perfetta io andrei innanzitutto a salutare tutti voi 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 mi piace come lo detto voi tutti voi l'ho detto alla Olmo no c'è simpatia tra di noi tutti voi tutti voi esatto Fabio De Luigi siamo noi amici dell'amore quindi grazie a tutti continuate a seguirci fatelo esplodere questo internet sono forti questi sono forti ce lo meritiamo se lo merita Massimo a cui va un grandissimo grazie e applauso ma grazie a voi per essere stato con noi aver giocato averci raccontato cose non aver risposto anche ad altre cose alcune cose solo una cosa non ho risposto di Umbrella Academy però però due cose non ho risposto adesso è un trick ma in realtà io non lo so di Umbrella quindi non è la risposta io la risposta l'ho data non lo so esatto esatto la data non lo so però grazie davvero è stato un bellissimo ci sono cascato di nuovo mi sono divertito un sacco e chissà che in futuro non ci ricadi di nuovo per forza che ti liberi liberate di me così non c'è due senza tre senza quattro di Massimo che ci liberiamo di Massimo noi non vogliamo anzi sei sempre il benvenuto ed è un piacere tornerò tornerò quindi grazie e ci vediamo grazie anche a Andrea ovviamente com'è stato questo primo episodio al volo è stato elettrizzante è stato elettrizzante è figo spumeggiante ripeti spumeggiante bello è stato bello bello bellissimo questa cosa me la taglierò e me la metterò come sveglia la mattina c'è una cosa importante da dire a chi ci sta seguendo che i video su youtube spesso vengono seguiti da persone che non sono invece aggiornate sul canale quindi mi raccomando voi iscrivetevi attivate la campanellina e seguitici su tutti i social network perché su ogni social troverete dei contenuti esclusivissimi quindi mi raccomando fatelo perché le puntate vanno avanti grazie al vostro supporto e quindi continuate a supportarci bellissimo bellissimo che chiusa pazzesca che chiusa pazzesca portateli ciao alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao